bello io ben tornati su real napoli football ragazzi finalmente siamo tornati a vincere dopo un'eternità un'eternità finalmente aggiungerei finalmente oserei dire detto ciò andiamo a cercare subito la versione di questa puntata e come sempre se vi fa piacere lasciate un like al video iscrivetevi al canale commentate per farmi sapere che ne pensate quello che state per andare a vedere ragazzi puntata che sarà speciale perché cominceremo con un modulo diverso perché il nostro buon salvio ha riscattato il cambio modulo in live e giocheremo col 4 1 2 3 col 4 1 2 3 procedi immaginavo che questa persona che quando accetto le amicizie mi invitano a giocare va bene italia napoli cittanova calcio club allora o il doppio trequartista quindi mi vuoi dire anche tre quartissima intanto si vanno dicendo vuole giocare il più pallone va bene vuoi dire due trequartisti il mediano fra non so se mi stai ascoltando penso di sì allora questo si è messo evidente di rischi non gioca o lo posso mettere dal quartista penso che tu mi voglia far giocare così ma era donna a destra ok ecco qua diego zirischi inizia zirischi ok i nostri avversari interessante formazione si parte ragazzi andiamo al match mediano ha lasciato l'obbo per il momento vediamo che succede si parte italia napoli ah volevi esterni invertiti la sua moda è l'inverto ok andiamo fatto si parte attenzione proviamo a prestare nel frattempo clara e politano si invertono palla dentro attenzione oland maradona va in chiusura di lorenzo che sporca questa palla poi la passa meret rischiosissimo questo passaggio la palla finisce poi con un po' di fortuna maradona che cerca dentro il cedito simione che appoggia zirischi che la ridà simione dentro simione che prova a sparare da lontano la parata però avevo zirischi avevo zirischi a cui potevo dare la palla comunque zielo dalla bandierina adesso andrà da raccamani attenzione raccamani ma c'è oland su di lui attenzione prova a ripartire l'italia con pempe mario lui si fa saltare ancora lo botca deve chiudere giannino di lorenzo e lo so lo so infatti sono deficiente sono un cazzo di deficiente lì cadio gluta la bandierina attenzione calcio d'angolo ancora calcio d'angolo ancora ancora cadio gluta la bandierina calcio d'angolo le mette fuori lobo la palla resta lì però attenzione maradona palla dentro simen non è fuori gioco quello mamma mia che cosa ha preso e poi fuori gioco di simen ma che cosa aveva preso lo botca ragazzi lì che cosa ha preso lo botca meret rilancio lungo con il ciolito simeone che appoggia maradona che allarga per caraschelia caraschelia dentro per il ciolito simeone che cerca di si rischi questa volta molto male però intera fare attenzione tenemar natan prende questa palla e allarga verso politano palla per zedischi dentro per matteo politano che va matteo politano palla per il ciolito che cazzo ho fatto ultimamente faccio delle scelte veramente ridicole cioè raccomani palla per caraschelia prova ad andarsi niente da fare attenzione palla dentro raccomani di lorenzo colpisce di testa zedischi palla dentro per caraschelia niente da fare zielo incredibile attenzione riparte l'italia di lorenzo appoggia per lobotka maradona palla per zedischi la dac caraschelia scende caraschelia da zielo che va da maradona prova il dreaming diego se ne può maradona niente da fare attenzione caraschelia ricorda palla dentro per pietro zielischi che rientra il cross in mezzo sommer lancio lungo di sommer natan su osimen niente da fare recupera palla mario scende mario l'appoggia maradona che vede zielischi libero attenzione la palla resta lì ma non siamo fortunati fa tornare maradona su cadioglu attenzione cadioglu maradona palla rioperata da natan era anche fuori gioco politano tacco per maradona dentro per zielischi niente da fare palla dentro prova a ripartire l'italia con maradona e prova a chiudere niente da fare mario rui palla dentro per neymar torna mario rui che scende e porta palla rui poggia maradona che pallaccia di rui a me e i filtranti lo bocca recupera palla lo bocca dentro anticipato qui scelito simeone attenzione palla dentro simen loro raccmani in chiusura palla loro non parlo è meglio che non parli si cross tanto per cambiare potrebbe essere un'idea attenzione scelito simeone lo bocca prova ad allargare per cavara schelia dribbling di cavara che se ne va scende cavara schelia prova il cross in mezzo il ciolito niente da fare maradona anticipa tutti cavara ancora cross in mezzo il politano 1 a 0 matteo politano rido perché già so salvio cosa sta pensando 1 a 0 matteo politano la mette è proprio lì matteo politano attenzione prova adesso ad attaccare subito l'italia ma dove è passata quella palla ragazzi di lorenzo prova a metterla verso maradona che allunga per cavara schelia che può correre scende cavara schelia se ne va cavara cavara la poggia dentro un zieliski che si ferma ero convinto che continuasse vabbè lobot non riesce a chiudere racchamani zieliski cerca maradona scende diego 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 se lo mangia praticamente mario lui anticipa tutti lui dentro per politano politano dentro per mario lui che si ferma mario lui il cross in mezzo c'è maradona che di testa non può fare granché e si vede arriva ruvi gran ricopro palla zieliski palla per diego maradona che va a giro palla fuori tanto per cambiare tra l'altro ha segnato politano di testa attenzione lo botca pempe prova ad andarsene c'è oland palla dentro di lorenzo maradona vede dall'altro lato con un passaggio incredibile politano la palla purtroppo non arriva ma politano può dare fastidio un po' sfortunato qui matteo attenzione palla dentro per ne marra pempe lo botca fuori per natan per buttarla fuori niente da fare sbagliamo un po' di cose qui attenzione ancora natan si gira questa volta spazza colpisce l'avversario fallo laterale per noi primo tempo penso praticamente finito con mario lui che cerca natan per fargliela spazzare finisce il primo tempo 1 a 0 ragazzi siamo avanti dobbiamo assolutamente continuare così il ciolito si riparte la botca mario lui politano mario lui politano ancora proviamo a scendere dentro per zirischi cerca ancora politano 1 2 attenzione politano il cross in mezzo arriva quale di testa partenza al razzo nel secondo tempo 2 a 0 sta scaricando pure il gioco si scarica tutte le cose vanno dentro attenzione osimen natan si gira e spazza verso il ciolito simeone palla per zirischi che fa correre politano se ne va politano 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 arriva al cross in mezzo il ciolito attenzione cavara schelia resta lì niente da fare di lorenzo palla per cavara schelia dreaming di cavara che se ne va cross in mezzo il ciolito va a schiacciare di testa attenzione somme lo botca palla per mario lui che si gira vada politano zirischi provare a politano che però si era fermato un po' zirischi lo prova a recuperare adesso lui maradona maradona attenzione dentro palla dentro maradona recupera palla al limite dell'area e poi la dà zirischi che prova ad allargare per politano appoggia mario lui dentro per il ciolito in realtà non volevo andare così attenzione mario lui ne marra osimena no corcia volan appunto adesso continuano lo botca corcia corcia l'italia attenzione zirischi tacco per mario lui dentro per il ciolito che entra il ciolito non riesce ad arrivare al tiro attenzione raccomani chiusura di raccomani attenzione allarga adesso per caraschelia maradona 1-2 se ne va caraschelia entra caraschelia caraschelia dentro e l'autogol incredibile ragazzi autogol incredibile 3-1 passiamo di nuovo noi con il doppio vantaggio maradona recupera una gran palla diego dentro per il ciolito che è in fuorigioco 3-1 maldini rilancio lungo con natan che svetta su holand politano va dentro male però molto male dal ciolito simeone neymar attenzione oland non so cosa è successo prendono il palo con son rimasto al fondo per noi e inoltre inoltre andiamo a fare qualche cambio lasciamo la formazione iniziale mettiamo un gong per politano però invertiamo a questo punto perché gong di là non sa giocare pallone mettiamo tra ore per zieliski che il trequartista lo so ovviamente fare mettiamo l'instrom per diego ok ok così andiamo un po' freschezza avanti e il resto lasciare così lobo lo lascio c'ho raspa quasi 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 un raspadori selvatico facciamo giocare lasciamo il ciolito avanti zieliski meret va verso tra orecchia appoggia il ciolito simeone fuori gioco del ciolito dici cioè dici di metterlo a sinistra ho guardato che comunque lo faccio metto due secondi ai punti allora che faceva anche raspa ok come no ah ok attenzione rivoliamo palla con il ciolito simeone dentro per l'instrom che non riesce ad andare da tra ore attenzione attaccano loro con osimen olandosimen meret ovviamente guai ha ripassata ma dai ma dai ha fatto uno o due con meret vabbè lobotka errore di lobo qui rackmani non ci credo ragazzi ragazzi la ripassa la ripassa la ripassa tiro meret mamma mia no 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 ma fai bene ma fai bene ma fai bene pazzia roba fai bene stiamo stiamo soffrendo ragazzi stiamo soffrendo attenzione lobotka qui osimen mamma mia la mettiamo fuori il raspatore ciolito simeone appoggia per gong che prova a scendere gong ciolito prova ad andare dentro la palla se no la prendeva simeone era meglio ma adesso la va a recuperare la riperde attenzione palla per di lorenzo che prova ad andare lungo da raspatori dentro per l'istrom che va dall'altro lato dal ciolito niente da fare attenzione l'istrom tra ore palla per raspatori dribbling di raspatori rientra raspatori raspa 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 dentro per gong che prova ad andare dal ciolito simeone niente da fare ripassa l'Italia Mario Rui gong Mario Rui spara lui di destro senza senso va bene così Sommer rilancio lungo di Sommer attenzione c'è l'istrom su Osimène l'istrom riesce a dargli fastidio e a darla poi a raspatori che però la perde danni di Hernandez se ne va Son Giumin attenzione di Lorenzo proviamo a recuperare palla fuori l'istrom tra ore che fanno bene a prendersi attenzione Nathan la parata e di Lorenzo la sbatte fuori di Lorenzo la sbatte fuori l'istrom errore di l'istrom qui attenzione palla dentro Simen cross in mezzo poi tra ore in gong chiaramente aspetta sempre la palla e quindi la perdiamo tra ore appoggia l'istrom scende l'istrom dentro per il ciolito Simione che ha tanto spazio Simione cerca un gong attenzione che spara all'incrocio dei pali gong 4 a 2 attenzione ripartono loro ci riportiamo con 2 gol di vantaggio palla dentro Lobotka errore di Lobo faccio sempre che se follia ai normi ma Lobotka riprò ancora palla per tra ore il ciolito Simione palla per l'istrom dentro per Simione che può andare il ciolito Simione che spara la parata la parata di Sommer che senza filtrante cioè spiegami perché non ho capito un attimo attenzione la palla di Mario lui verso Raccomani resta la palla lì Raspadori poggia per Lobotka che la dà Raspadori che spara gollasto di Giacomino Raspadori 5 a 2 e Giacomino Raspadori mette la fogliolina di Basilico sulla margherita ragazzi e va bene così e va bene così ragazzi torniamo un po' a giocare a pallone poi attenzione palla per in gong il ciolito ancora dentro per in gong che spara la parata calcio d'angolo potrebbe essere la loro ultima opportunità per mettere la cosiddetta ciliegina sulla torta la fogliolina sulla pizza mettiamo attenzione Mario lui dentro palla fuori partita che si avvia verso la fine che siamo riusciti quasi a dominare alla fine sotto il profilo quantomeno delle occasioni anche se loro hanno veramente creato tanto Nathan prova a spazzare finisce qui 5 a 2 seconda vittoria di fila bene 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 così 5 a 2 loro hanno attaccato tanto noi anche siamo stati un po' più cinici di loro seconda vittoria di fila ragazzi mettiamo un po' di punti in cascina e soprattutto alziamo un po' il morale di fila